La Fiera del Vino arriva a Chieti, si chiama Divino Expo e si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre all'Exforo Boario, mettere in mostra prodotti esclusivamente abruzzesi. L'Abruzzo infatti conta 18.000 aziende che ogni anno producono circa 4 milioni e mezzo di quintali di uva e 3 milioni di ettolitri di vino, declinato in svariate qualità dal Trebbiano al Passerina, dal Monte Pulciano al Cerasuolo. Un salone del vino e del territorio, quindi il sottotitolo che abbiamo dato è proprio questo, perché vogliamo creare un polo nel centro-sud Italia che dia un maggiore valore alla visibilità dei vini abruzzesi, perché dal punto di vista qualitativo i vini abruzzesi sono sicuramente tra i migliori e non hanno nulla da invidiare al resto d'Italia o del mondo, anche come tecniche produttive siamo all'avanguardia, però quello che è mancato in questi anni è stato proprio la comunicazione, cioè il dare valore al prodotto che si crea. La manifestazione avrà due tavoli tematici, il primo, quello del sabato, sarà tutto al femminile, riguarderà il ruolo della donna nella filiera vitivinicola, settore questo ben lungi dall'essere di competenza esclusivamente maschile. Il settore del vino è sempre più rosa, che non significa che beviamo il vino rosa, assolutamente no. È rosa perché la fruizione del mondo del vino al femminile viaggia attraverso canali che non sono esclusivamente da ricondurre alla beva. Le donne desiderano narrazione, storytelling, vogliono il contatto diretto con il produttore, vogliono scoprire anche tutte le realtà associate al vino. Quindi in questo senso attraverso un discorso improntato al femminile si riesce a scoprire un universo, un mondo in cui la formazione trova uno spazio e sicuramente il racconto del territorio diventa una leva in più da inseguire. Al secondo tavolo, quello della domenica, si parlerà di economia con un professore dell'Università Bocconi di Milano. Il vino infatti può rappresentare un volano per la ripartenza durante questo periodo di crisi. Anche le aziende, i produttori vinicoli stanno soffrendo, bisogna comunque far qualcosa per rilanciare questo prodotto, ma soprattutto per rilanciare anche la visibilità e il valore intrinseco che si dà al prodotto. Grazie. 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 Grazie.